Come è la mobilità elettrica? In Italia abbiamo uno stabilimento che produce colonnine di C, per cui quelle veloci e ultraveloci, oltre a altri stabilimenti che nel loro insieme danno le soluzioni di flessibilità richieste per la mobilità elettrica. Non si tratta solo di mettere giù la colonnina, ma di mettere delle soluzioni che siano flessibili e che seguono l'andamento del mercato. Oggi parliamo solo di poche migliaia di auto, tra qualche anno parleremo di milioni di auto. In questa transizione dobbiamo avere delle soluzioni che nella loro flessibilità capitalizzano l'investimento e offrono l'opportunità di seguire il mercato in modo veloce e a minimo impatto. Grazie. Grazie.